ciao a tutti stelline ben atterrati sul canale allora vi devo aggiornare su un bel po di cose e mi scuso per essere mancata per tutto questo tempo ma come avrete capito ci sono stati un po di problemi e ce ne sono tuttora allora riprenderò a fare video a breve questo ve l'ho già detto anche in privato ragazzi a chi mi sta scrivendo in privato ovviamente l'ho già detto riprendo ovviamente solo una pausa ma assolutamente la necessaria non sto per niente bene ho preso un virus intestinale quindi è una settimana ragazzi che sto malissimo oggi ho deciso di fare questo video perché non riesco a uscire non riesco a fare niente e sono stata veramente male ho una tosse pazzesca adesso era un momento in cui sono stata un po meglio sto prendendo tante vitamine integratori però non mi è mai capitato di prendere un virus intestinale così forte penso che sia perché mi si sono abbassate anche le difese immunitarie perché diciamo contemporaneamente sono successi vari fattori sia di lavoro sia familiari sia dei miei migliori amici problemi piuttosto grossi ragazzi non voglio scendere nel dettaglio ma avrete capito anche il dedo ha avuto dei problemi e anzi adesso è in un momento veramente brutto ma è una cosa talmente privata che ve ne parlerà lui se vorrà so che riprenderà il canale non credo proprio che lui l'ha detto che non vuole abbandonare assolutamente il canale però purtroppo come sapete l'aveva già anticipato ha avuto dei problemi è normale che quando ci si ferma da youtube qualcosa che non va c'è ormai l'avete capito però insomma diciamo che non è niente di riparabile ragazzi però a volte arrivano veramente delle mazzate delle problemi da risolvere subito dove uno va un po' fuori di testa e non riesce almeno io ma vedo che anche tanti altri youtuber reagiscono così non non si riesce a star dietro ci si vuole un po' isolare al momento ragazzi vi posso dire che tra tosse la voce mi sentite che voce ho tra tosse e tutto il resto è un disastro un disastro veramente adesso vedete che ho la zanzariera e sono davanti alla finestra perché se apro con sto vento sudo sudo in continuazione quindi debolezza mi sistemo peggio comincio a tossire quindi non posso nemmeno uscire perché non fa freddo ma c'è sempre il vento io sinceramente non ho capito come me lo sono beccato però lasciamo perdere ragazzi mi ha detto la farmacista che ce n'è tantissimi in giro di questo virus intestinale che prende un po' appunto anche tosse e raffreddore eccetera vabbè vabbè quindi ragazzi allora vi dico che non voglio sto sempre ad asciugarmi a bere a sudare tutta una roba così insomma ragazzi scusate l'interruzione ma tra l'altro ho tossito interrotto anche il video perché tossisco tantissimo comunque ragazzi ho fatto questa meravigliosa scoperta di queste ciglia finte io non ho mai voluto mettere le ciglia finte con la colla perché la colla è una cosa secondo me un po' pericolosa e molto negativa anche se dicono che ce ne sono di quelle buone e poi togliendole si strappano sempre le ciglia naturali non l'ho mai voluta mettere cosa ho pensato che finalmente con questo eyeliner che va a mettere con la calamita le ciglia finte quindi eyeliner magnetico eccolo qua c'è scritto bello chiaro mettere e come mette con eyeliner normale voi togliete le ciglia le mettete sopra e stanno perfette cioè ragazzi io quando l'ho provata ero su di giri l'ho messa proprio per uscire con questo mio nuovo amico di cui vi ho parlato mio nuovo amico mio vecchissimo amico ed ex come vi ho detto sono uscita con lui tra l'altro c'era una bellissima festa parlo di sabato scorso ragazzi stavo ancora benissimo vabbè e c'era una bellissima festa anche qua ad alessandria siamo andati in un ristorante meraviglioso ragazzi avevo già messo le ciglia finte queste in realtà qualcuna ve la posterò su instagram oppure anche qua sulla community di youtube sicuramente perché siamo andati a mangiare molto bene in un ristorantino nuovo di alessandria troppo carino del centro abbiamo mangiato benissimo ragazzi e io con queste mie nuove ciglia finte che poi erano queste ma adesso vi dirò che come recensione ardel è molto migliore e tra l'altro queste qua sono ciglia molto naturali ve le faccio vedere molto naturali quasi fini sembrava si vedeva pochissimo che avevo le ciglia finte sono così vedete poi tra l'altro fate bene perché hanno i magneti tutti intorno per cui tutto resta ben avvolto il giro di ciglia non resta dritta come quelle lì che hanno quel magnete in mezzo o due magneti uno di qua uno di là e poi salta non tengono tantissimo il eyeliner è questo un normalissimo eyeliner col pennellino ma ardel dicono che è migliore comunque l'ho tolto anche con grande facilità senza problemi non bisogna fregare niente e queste qua basta semplicemente appoggiarsele sopra e tac cioè pazzesche le mettete le appoggiate e restano immobili tutta la sera senza problemi vedete che si attaccano perché questo materiale le attacca vedete che va su da sola la calamita guardate vedete tac scatta proprio però io ho preferito queste che si vedono un po di più perché anche ho gli occhi grandi ragazzi quindi queste qua si vedevano veramente poco e poi ho provato queste da dieci allora come vi dicevo questi li ho presi da tigota kiss questa marca qua ok che non è male però ha solo queste ciglia insieme a questo ma c'è anche l'eyeliner da solo se volete e ora non mi ricordo il prezzo di questo ma siamo sui dieci euro così 15 12 una roba così mentre mentre queste qua da sole senza l'eyeliner 10 euro perché mi piacciono le ciglia all'ovs e sempre all'ovs tutto il completo con una ciglia diversa quindi ci sono due modelli diversi e il suo eyeliner di ardell che davvero è veramente molto ma molto migliore proprio come inci quindi è un buon eyeliner ok naturalmente è fine il pennellino come di quello là vi fa proprio una riga bella fine la potete fare più spessa come volete ma è proprio come un eyeliner normale bisogna mettere le ciglia senza che sia già asciugato quando è ancora un po umido le mettete le appoggiate e vanno su da sole proprio voi le appoggiate sulla rima cigliare ragazzi vanno su da sole e poi se non vanno su bene le spostate come volete senza problemi alla sera fate così tac le togliete cioè più facile di così guardate potete mettere le ciglia se le ho messe io le potete mettere anche voi quindi questo è lo scontrino e poi mi han dato un buono da 5 euro che è questo qua da spendere è da spendere perché io la tessera in OVS che lo spenderò se ci andrò insomma ci andrò dai ci andrò quindi ragazze questa era una nota un po più carina e poi ho preso vi faccio vedere anche un'altra cosa ve lo faccio vedere un po così alla veloce ho preso questa scarpina che mi piaceva veramente tanto guardate che meraviglia bella alta un po una zeppa non altissima è 8 cm di una comodità tutta imbottita in pelle numero 38 e questa l'ho presa dai cinesi ragazzi è strepitosa c'era anche nera guardate che meraviglia bellissime sono di nuovo molto di moda le zeppe così quindi ragazzi in realtà c'erano anche nere le avrei quasi volute prendere anche nere poi queste qui hanno bellissime e le ho prese così gli ho dato anche poco 23 euro mi sembra ragazzi anche molto economiche veramente scusate molto molto belle se prendo anche le nere ve le farò vedere ma hanno una lavorazione troppo bella e scioccante ero scioccato ho preso un 38 io ma avevano tutti i numeri anche fino al 40 anche il 36 37 insomma c'erano e quindi queste ragazze poi vi volevo dire che l'ultima cosa ho preso anche delle unghie finte in realtà non voglio fare io la ricostruzione su questo vi faccio magari vedere bene un video perché ho preso delle unghie che attaccherò con una colla particolare che non fa male perché guardate che unghie sfigate cioè poi tutte una un po' così una un po' così adesso queste erano cresciute e le ho tagliate per farle per pareggiarle perché non stavano bene devo tagliare ancora venivano lunghe poi mi dispiace tagliarle aspetto magari che cresca una per pareggiare ma non ci riesco mai quindi alla fine ho deciso unghie finte almeno nelle occasioni belle perché e ve le farò vedere ne ho prese di quelle strepitose ragazze questa è un'altra cosa come le ciglia finte che ho trovato la soluzione senza fare la ricostruzione unghie perché poi io voglio essere anche libera a volte avere anche le unghie più corte e ragazzi so che dovevo fare tanti video video sui profumi video su raptus come vi ho promesso quel brand meraviglioso con cui ho da fare questa collaborazione che è un brand meraviglioso e ragazze li faccio ovviamente dovete avere un po' di pazienza perché con questi periodaci questi chiari di luna purtroppo è così e quindi è andato tutto a rilento tutti i video sui profumi poi me ne avete anche chiesti tanti altri lo so devo farli grazie di tutto quello che mi scrivete voglio salutare velocemente prima di chiudere uno di voi che si chiama che mi ha scritto un ragazzo di voi meraviglioso che si è iscritto al canale da poco allora che si chiama che si chiama eccolo qua perché me lo sono scritto fabio fabio b 7934 che mi hai messo dei commenti sotto al video dove ho lasciato il mio fidanzato e mi hai scritto mi dispiace tanto e tanti complimenti insomma ti ho risposto mi hai scritto anche in privato mi fa molto piacere spero che continuerai a seguirmi perché è un nuovo iscritto quindi ciao fabio un abbraccione e saluto anche tutti gli altri marilena lina marinella vi saluto tutti i ragazzi Antonio Giovanni tutte le persone che di solito mi siete sempre vicini ragazzi vi abbraccio fortissimo tutta la mia community magari diciamo che qualche diretta intanto qualche diretta intanto cercherò magari anche di farla sempre se sto meglio infatti vi chiedo scusa se non mi sono fatta neanche vedere in video ma ragazzi sono stravolta cioè naso che a forza di soffiarmi il naso non lo so cosa diventa cioè non ce faccio quindi ragazzi vi chiedo scusa ma sapete che quando non sono in vena io no anche no cioè stravolta così non mi va e ho le mie cose vanitosetta come sempre vabbè ma ormai mi conoscete però ovviamente si recupera si recupera e cercheremo di fare tutto quello che per un mese è solo rimasta indietro va bene quindi ragazzi vi mando un grandissimo bacio scusate se ho dimenticato di salutare qualcuno anche Elena Elena dalla Russia ciao tesoro insomma non so ecco avrò dimenticato sicuramente qualcuno Stefano Adele Giuseppe Momente Giuseppe Momente ciao Giuseppe Beatrice Gola insomma vi saluto tutti ragazzi vi abbraccio fortissimo vi stringo forte e ci vediamo al prossimo video speriamo il più presto possibile appena sto meglio mi rimetto in corsa ok ragazzi spero già la prossima settimana ho bisogno ancora qualche giorno però diciamo che cova il fuoco sotto la cenere dai un bacio un abbraccio ragazzi e alla prossima ciao